sapete cosa vogliamo da noi stessi vogliamo sentirci vivi però non possiamo essere pienamente vivi se non siamo in contatto con la parte profonda di noi stessi questa parte sommersa è come una poesia dimenticata per leggere e capire questa poesia dobbiamo sviluppare un ascolto particolare in quanto si tratta di entrare in un mistero infatti parliamo di arte psicologica perché nel momento in cui ci relazioniamo con l'inconscio e quindi con il mistero si tratta di sperimentare un incontro con l'ignoto ma questo ignoto è vivo ed è popolato di fantasmi che desiderano relazionarsi con l'io il linguaggio più adatto a questo tipo di relazione è quello artistico perché è un linguaggio empatico è ricco di metafore e non è il linguaggio razionale dell'io dunque la creatività psicologica rappresenta il modo elettivo di guardare all'universo interiore perché sa creare nessi inaspettati tra le cose sa associare poeticamente i concetti e riesce a meravigliarsi di fronte al mistero per accogliere questa verità nuova l'io deve assumere l'atteggiamento di chi sa di non sapere cioè deve lateralizzarsi e fare spazio al sapere sospendendo le sue certezze e dimenticando ciò che crede di sapere e qui si innesta il nuovo desiderio dell'io che è quello di desiderare il desiderio dell'inconscio l'io deve volere che l'inconscio parli con lui e così il significato della nostra vita cambia in altre parole cosa fa sbocciare la nostra anima cioè la nostra psiche cosa realizza la nostra psiche il confronto con l'altro che ispira nuove relazioni tra noi e i nostri aspetti interiori questa è l'opportunità che il coinvolgimento affettivo offre cioè quella di entrare dentro noi stessi con occhi nuovi pertanto l'evento creativo come ho spiegato in molti video precedenti a questo nasce nel rapporto tra una dimensione caotica e una dimensione di rigore o di ordine che conferisca a questa confusione un senso la dimensione creativa si fonda sulla possibilità di attingere al magma incandescente quindi al disordine a ciò che può dar luogo al al nuovo ma questo accade se si è in grado di incanalare questo prodotto con un certo rigore il passaggio dal disordine all'ordine è sempre un passaggio dal caos all'ordine e necessita di una disciplina interiore che è simile ad una trasmutazione la disciplina interiore ci serve per attuare questa trasmutazione un termine che è etimologicamente legato ad altri che per noi sono un po più chiari cioè esperienza e pericolo newman parla di grande esperienza e di grande individuo e dal momento che per quest'autore ogni essere umano è creativo ognuno di noi alberga nel proprio intimo il grande individuo pertanto dobbiamo chiederci come questo processo possa avvenire il passaggio dal caos all'ordine costituisce un salto di gerarchia che però non si lascia agevolmente avvicinare dalle categorie cosiddette razionali e iniziamo intanto a vedere cosa ha da dire newman in proposito secondo newman il processo inconscio che va sotto il nome di formazione delle immagini oppure formazione ideativa ci assiste nel nostro orientarci nel mondo ci aiuta a vivere e quindi ad adattarci però occorrono sempre due poli perché la grande esperienza di cui parla newman abbia luogo occorre come dire un conflitto il conflitto è per così dire generatore di energia psichica tuttavia è anche vero che occorre predisporsi a questo tipo di incontro pertanto la recettività di cui abbiamo parlato nel video precedente può essere considerata un modo di andare verso l'incontro un modo di andare all'incontro la recettività può essere configurata come quell'atteggiamento che predispone ad una sorta di passaggio tra due nel rapporto analitico un ascolto ricettivo e potremmo anche dire empatico dell'altro consente un aumento di tono dei ricordi e delle associazioni in altri termini avviene che dal caos delle impressioni si passi all'ordine del racconto quindi il racconto è una forma di ordine freud ha chiamato questa modalità di ascolto attenzione liberamente fluttuante e l'ha descritta più o meno così si tenga lontano dalla propria attenzione qualsiasi influsso della coscienza e ci si abbandoni completamente alla propria memoria inconscia questo atteggiamento che naturalmente va trasferito alla nostra presa di contatto quotidiano con il mondo implica l'attesa l'attesa che non è sempre colmata da un evento si attende a proprio rischio e pericolo e allora nelle sue scorribande etimologiche attraverso la lingua tedesca considerata da heidegger la lingua filosofica per eccellenza questo filosofo ha posto in stretta relazione i termini destino e dono dono è il realizzarsi di una trasmutazione dono è il passaggio dal caos all'ordine i greci avevano condensato lo stesso concetto di passaggio nell'immagine di due divinità dioniso e apollo dioniso una divinità infernale legata ai momenti più creativi e selvaggi apollo una divinità solare e portatrice di ordine la nostra esistenza è sempre la ricerca di un equilibrio tra queste due dimensioni dioniso e apollo quando l'esistenza viene a trovarsi sotto l'influenza di una di queste due dimensioni e trascura l'altra si genera uno squilibrio e allora io posso essere sommerso dalla mia genialità se non possiedo un contenitore che è come una bocca che raccoglie e dà un senso apollo è quindi il contenitore se non c'è apollo se non c'è il contenitore allora si rischia di essere frantumati cioè smembrati come accade infatti a dioniso dioniso fu frantumato ma apollo lo raccolse lo mise insieme e lo ricondusse alla vita dunque apollo è il contenitore perché occorre un contenitore occorre un contenitore per dare senso per conferire senso e significato alle cose se riusciamo a contenere tutta la forza che fuoriesce da noi questa forza può acquisire un significato un senso questo discorso però si scontra con la dura realtà della vita che ha delle leggi per le quali ad esempio se io prendo un oggetto e lo lascio cadere questo oggetto irrimediabilmente andrà a terra e solo in alcuni casi particolari salirà verso l'alto così come esiste una legge di gravità ne esistono altre che sono psicologiche alle quali noi abbiamo dato un nome e con le quali ci dobbiamo sempre confrontare un bambino parla se nell'ambiente in cui vive si parla ma non lo farà mai se cresce in un altro ambiente dove non si parla i famosi bambini selvaggi non parlano perché la loro predisposizione a farlo non è mai stata stimolata se un bambino non sviluppa le proprie capacità fonetiche in un certo momento non parlerà mai più la nostra crescita psicologica avviene soprattutto attraverso un meccanismo che si chiama di identificazione l'identificazione è un processo psicologico fondamentale attraverso il quale le immagini che vivono intorno ad un bambino gli permettono di crescere immedesimandosi in ciò che vede questo meccanismo dà luogo ad acquisizioni di informazioni che sono fondamentali per l'esistenza di un individuo all'interno di una società e di un gruppo il discorso sul processo dell'identificazione strettamente legato a quello sulla creatività secondo quanto afferma edith cobb in un saggio dedicato alla genialità dell'infanzia una intelligenza creativa richiede anche la capacità di identificarsi e di partecipare con ciò che è altro da noi pur conservando sempre il senso della propria identità come rapporto tra io e mondo ne consegue che attraverso i processi di identificazione noi interiorizziamo cioè assimiliamo un po come viene durante la digestione assimiliamo la norma cioè le leggi che regolano il nostro vivere sociale il fatto che ad esempio io durante una conferenza parlo di miei ascoltatori che stanno tutti in silenzio e seguano quello che io vado dicendo dipende dalla interiorizzazione di norme se infatti ci fosse qualcuno che non avesse interiorizzato il tipo di atteggiamento ritenuto adeguato nel contesto di una conferenza ce ne accorgeremmo tutti immediatamente sicuramente non saremmo aggressivi saremmo al contrario molto curiosi di capire perché non ha acquisito il comportamento che in queste situazioni si richiede il nostro comportamento quindi deriva non tanto da leggi interne quanto da leggi esterne che noi assorbiamo proprio come si assorbe il cibo e assorbiamo dall'ambiente esterno in cui siamo siamo immersi un eccellente esempio di assimilazione inconscia è fornito dal linguaggio ognuno di noi ha assimilato inconsapevolmente la musicalità del linguaggio del luogo in cui vive il processo di interiorizzazione risulta quindi fondamentale perché su questo processo si basa un bisogno di cui parla from il bisogno di appartenenza l'idea di appartenere ad un'associazione o di far parte di un gruppo costituisce secondo from un bisogno di base cioè non è indotto ed è sempre presente in ognuno di noi questo bisogno può essere soddisfatto se abbiamo interiorizzato delle norme che ci consentono di appartenere a dei gruppi anche se si appartiene ad un semplice gruppo sportivo si dovranno osservare determinate regole ciò nonostante arriva prima poi il momento nella vita in cui sentiamo il richiamo della foresta un richiamo centrifugo che ci respinge dal centro di appartenenza e ci spinge alla ricerca dell'unica persona della nostra vita che abbia veramente importanza cioè noi stessi questa ricerca è forse la prova più difficile che dobbiamo superare infatti l'appartenenza dà molta sicurezza quando facciamo parte di un elenco prendiamo forza dal numero di persone che compongono il nostro gruppo il gruppo però è anonimo quello che appare interessante è che ogni qual volta si manifesta una presa di posizione ciò avviene sempre in gruppo non è mai firmata con un nome con un cognome questo significa che la forza deriva non dalla singola persona che ha pensato autonomamente una certa proposta ma da un insieme di persone che si riconoscono in un'associazione l'evoluzione che conduce ad essere un individuo separato è difficile e tormentosa ed equivale al distacco del bambino dalla madre ed equivale al distacco del bambino anche dalla famiglia e quindi i successivi distacchi che questo bambino diventato adulto dovrà sostenere della sua vita qualcuno potrebbe sostenere che soltanto gli esseri umani veramente grandi non hanno paura delle perdite le perdite sono le fratture continue che noi incontriamo nella nostra vita con i gruppi di appartenenza gruppo di appartenenza e anche il nostro partner sentimentale nell'antica mitologia l'evento della separazione in genere è rappresentato da un'azione violenta come ad esempio il ratto delle sabine questo implica che il distacco dal nucleo non è mai indolore nel setting analitico si ricrea il modello parentale cioè la persona viene accolta e trovando accoglienza cresce il vero problema insorge nel momento in cui la persona deve separarsi nel frattempo si sono creati dei legami molto forti ed è in questa fase che possono venire alla luce delle problematiche sottili e pericolose che non potrebbero emergere in un altro modo allora il bravo analista fin dal primo incontro pone le basi del distacco questo strappo è sempre doloroso ma implica che la persona riesca a vivere la sua indipendenza e sottintende l'abbandono delle norme assorbite dall'esterno e implica la ricerca di nuove modalità di essere allora ognuno di noi può scoprirsi creatore perché può ritrovare all'interno di se stesso il principio che conduce verso la sua esistenza bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata e sia consulenze telefoniche oppure via mail per cui se volete richiedermi una consulenza psicologica dovete contattarmi su whatsapp al numero 338 16 92 473 specificando il vostro nome cognome e i vostri orari preferiti inoltre potete visitare il mio canale youtube dove troverete oltre 350 video suddivisi in varie playlist sono presente anche su facebook dove ho fondato un gruppo dal titolo psicoterapeuti dell'anima e ho aperto una pagina che si chiama la mia psicologia in bocca al lupo